Cambio in questura a Campobasso due settimane dopo i saluti del questore Montaruli, oggi l'arrivo ufficiale di Cristiano Tattarelli, nuovo questore del capoluogo, ex questore di Vibo Valencia, classe 65, è nato all'Enola in provincia di Latina, l'aereato in giurisprudenza, entra in polizia dopo aver superato il concorso di vice commissario nel 91. Una carriera trentennale in giro per l'Italia, sino all'incarico di questore nel 22 a Vibo Valencia, oggi l'arrivo nel capoluogo regionale molisano. Quali saranno le principali azioni di repressione e controllo del territorio? La priorità è quella di essere al servizio dei cittadini e di lavorare per dare sicurezza ai cittadini, per le aspettative dei cittadini, per consentire a tutti di avere una polizia al proprio fianco. Accanto a questo poi, avendo fatto tutta la mia carriera professionale, attività di lotta alla criminalità comune e organizzata, chiaramente ci sarà una particolare attenzione alle infiltrazioni, alle presenze della criminalità organizzata nella provincia di Campobasso e un utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione del questore a livello di polizia amministrativa, di polizia di prevenzione per andare a intaccare il potere della criminalità organizzata. Grande sinergia tra tutta la polizia di stato della provincia e il commissario di Termoli fa parte della polizia di stato della provincia e quindi ci sarà una particolare attenzione al commissariato, alle attività del commissariato ma soprattutto una grande sinergia tra tutte le istituzioni, tra tutte le forze dell'ordine, sotto sicuramente la regia della prefettura perché l'intenzione è quella di andare proprio a incidere a livello di polizia di prevenzione sulle attività della criminalità organizzata.